Addio Serbia. Ratko Mladic ha perso la sua ultima battaglia. Il Tribunale e il Governo di Belgrado hanno deciso in fretta. No al ricorso per motivi di salute, sì all'estadizione. Non è servito il nuovo certificato medico portato dal suo avvocato, che parla di una malattia grave in corso da due anni. Per l'ex generale si aprono adesso le porte del carcere di Sheveningen a Laia. Lì ritroverà Radovan Karadzic e forse risponderanno insieme alle accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Mladic parte dopo aver esaudito il suo ultimo desiderio, tornare sulla tomba della figlia Ana, morta suicida a soli 23 anni, mentre il padre comandava la guerra in Bosnia. Alle 6.20 di stamattina è salito su un furgone blindato e l'hanno accompagnato al cimitero. Eccezionali le misure di sicurezza. Si temono infatti nuove proteste e scontri, come quelli che domenica sera hanno trasformato questa piazza davanti al Parlamento in un campo di battaglia. Con Mladic a Laia i serbi potranno sperare di entrare più velocemente in Europa, ma oggi Belgrado si divide ancora tra la rabbia e l'assegnazione. Non è giusto! Nessun ufficiale americano è mai stato giudicato da un tribunale straniero. Mladic doveva essere processato qui, nel suo paese. La Serbia ha degli obblighi internazionali da rispettare. È un bocone amaro, ma dobbiamo mandarlo giù. È un bocone amaro, ma è un pocone amaro.